Buonasera ragazzi, bentornati al Campo San Pietro dove si è appena conclusa la quarta partita di questa terza giornata di training camp tra le squadre Sulipano e Arnone. Siamo qui con i vincitori che la squadra di Sulipano hanno vinto 8 a 1. Li facciamo presentare il mister. Buono che danno il mister di prima squadra. Gli altri ragazzi. Degna Francesco. Marcatore dell'ottavo. Olivero Ciccio. Marco Valerio. Gallo Cristian. Allora, prima un commento del nostro mister sulla prestazione della sua squadra. Diciamo che abbiamo un attacco forte proprio, però abbiamo un ragazzo che si nasconde quando c'è il pallone. Sarebbe. No, facciamo parlare a lui se vuole parlare. Vuoi parlare? Nessuno risponde. Una bella prestazione, abbiamo un difensore forte, che è di legno però, diciamo legno duro. Poi abbiamo Ciro Livino che è un cinese naturalizzato italiano. Un polacco che mi ha regalato. Aspetta, facciamo presentare il ritardatario. Il mio provanzino. Ritardato, ritardato, ritardatario, stiamo là. Allora, l'uomo partita, Oliviero. No, Oliviero, tre gol. Dove sta? Chi è? Scusami, non ti conosco. A chi dedichiamo i tre gol? Dedico un gol al mister. Uno a Mauro. Grazie. E uno vorrei dedicarlo a mia mamma. Bravo, bravo, bravo. Allora, poi Sardegna che ci teneva a parlare. A chi dedichiamo il gol? Allora, il mio mister. Mister, la vittoria? La dedico a te. Ah, grazie. Che gentile, meno male. Alcuno mi pensa. Tu? No, niente. La vittoria. Ah, la vittoria. Allora, la vittoria a lui e il gol a lui. Tutto a lui. Tu? Sempre al mister. Tutto al mister. Anche tu hai segnato? Come ti chiami? Gallo. Gallo. A chi dedichiamo il gol? Scusami. Al mister. Al mister. Allora. Anche tu ti chiami? Vieni qua. Allora, c'è D'Antonio dietro alla telecamera che ha vergogna. D'Antonio! E che urla le orecchie di Viviana. D'Antonio, a chi lo dedichiamo il gol? Mister. Alla sua fidanzata, alla fidanzata di D'Antonio che non sappiamo chi è. Vorrei fare un appello. Noi vengo più a una partita a Fanta Calcio. Perché questa sia l'inizio della vittoria del Fanta Calcio. Allora, per noi, adiu. Posso? Un bel gol di Iguain stasera. Un bel più tre. E abbiamo vincito la partita. Ciao. Vabbè, non so che c'entra Iguain, però. No, no, c'è il secco. Perché devo vincere il Fanta Calcio. Devo vincere. Non ce la faccio più a perdere. La Mave X e il Fanta Calcio. La Mave X è la pozza pure a perdere. Ma il Fanta Calcio è già vincito. Che è importante proprio. Vabbè, fido la confessione. Ciao. Ciao.